Furto all'interno degli uffici comunali di Comiso. Alcuni ignoti si sono introdotti in ottempo nella sede degli uffici dove si pagano le tasse. I malviventi hanno scassinato una finestra degli uffici su via degli studi e sono riusciti ad aggire indisturbati, portando via quattro computer, calcolatrici e stampanti. Dopo sono riusciti anche ad uscire dalla porta principale, togliendo il fermo dall'interno. Ad accorgersi del furto è stata immattinata la signora delle pulizie. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili urbani che hanno fatto una prima verifica alla polizia che sta indagando per risalire gli autori del furto e recuperare gli oggetti portati via. Non si tratta del primo episodio criminale che riguarda i locali di proprietà del comune. Qualche mese fa era stata presa di mira la sede della riflessione scolastica che si trova all'interno dell'ex base nata. Passaggio di consegne ufficiale del segretario uscente Salvo Zago e l'entrante Giovanni Denaro. Sabato ha preso il via il nuovo corso del Partito Democratico della provincia di Ragusa che in questi giorni è stato caratterizzato dalle polemiche e dagli scontri interni. Zago ha tracciato il bilancio della sua attività alla guida del partito ed ha consegnato le chiavi al nuovo segretario. Considero definitivamente chiusa per quanto mi riguarda dichiarato Zago ogni polemica sul congresso provinciale perché da oggi il mio impegno sarà quello di sostenere l'azione del nuovo segretario provinciale per rilanciare il partito. Discritti gli elettori simpatizzanti della provincia di Ragusa chiedono un partito democratico forte per affrontare le emergenze e le criticità della provincia di Ragusa e non dilaniato da personalismi e scontri di potere. Così il segretario provinciale scende Salvo Zago. Presente all'incontro anche il vice segretario Mario D'Asta. Zago ha ringraziato chi gli è stato a fianco nella gestione del partito in questi anni. Nel suo bilancio ha parlato delle iniziative intraprese dal partito nell'affrontare le problematiche che hanno interessato il territorio, a partire dall'aeroporto di Comiso per proseguire con le emergenze agricole del lavoro, il piano paesistico, la legge su Ibla e il piano per lo sviluppo, rivendicando il merito di aver tenuto aggregato il partito, nonostante le spinte centrifughe e alcune posizioni interne di contrasto precostituite e strumentali. Passando alle consegne, Zago ha chiesto al nuovo segretario Denaro due miracoli. Il primo di ripristinare l'antico costume di lavare in famiglie panni sporchi, il secondo di far tornare quello spirito di solidarietà tra amici, compagni e dirigenti, invece di scatenare battaglie non sempre politiche utili per il partito. Solo così, ha concluso Zago, il PD potrà continuare a crescere e aumentare i consensi, che è la sola condizione che può permettere il coronamento delle ambizioni legittime di chi che sia. Nell'assumere ufficialmente la guida del partito, il nuovo segretario Giovanni Denaro ha ringraziato Zago. La sua esperienza, ha affermato Denaro, è un tesoro importantissimo per il partito, una risorsa fondamentale insieme a quella di tanti altri dirigenti. Rilanciare l'agricoltura partendo dal piano di sviluppo rurale 2014-2020. Se ne è discusso ieri pomeriggio a Comiso durante il Consiglio Comunale Aperto, che ha visto anche la presenza dell'assessore regionale Dario Cartabellotta, il quale si è fatto carico di illustrare ai presenti il piano di sviluppo rurale. Ad aprire lavoro è stato il primo cittadino di Comiso, Filippo Spataro, che ha evidenziato l'importanza strategica che l'aeroporto di Comiso può avere anche da un punto di vista commerciale. Al vaglio c'è infatti la possibilità di aprire una zona a cargo. Dopo il suo intervento si sono susseguiti quelli dei consiglieri comunali dei deputati intervenuti e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo produttivo. L'assessore regionale Cartabellotta ha rassicurato che la regione siciliana si sta muovendo per dare nuove possibilità e risorse alle imprese del territorio. Siamo all'unice di partenza sul porto rurale 2014-2020. Risorse che arrivano dall'Unione Europea per realizzare una serie di misure, mentre in passato non solo dedicata agli investimenti, ora ci sono delle misure innovative che sono aperte per esempio alla stabilizzazione del reddito, sono aperte i fondi mutualistici, sono aperte allo sviluppo del territorio rurale. Ma la cosa importante è che questa volta l'Unione Europea ha dato la possibilità di negoziare i piani sul territorio. Ma il comparto agricolo, come noto, deve fare i conti con la crisi che ha portato alla chiusura di tantissime aziende in questi anni, con la conseguente perdita di posti di lavoro. A questo proposito l'assessore Cartabellotta ha parlato del delicato ruolo degli istituti di credito regionali e della necessità di venire incontro alle esigenze dei produttori e degli imprenditori. Io credo che non si debba più prendere in giro nessuno proponendo soluzioni che sono al di fuori del diritto. Cosa ben diversa è fare una battaglia per la difesa non solo della casa ma anche delle attrezzature di lavoro, delle aziende, perché spesso si vedono sul giornale Aste Giudiziari, dove le banche mettono in vendita per due soldi, intere proprietà, questo è qualcosa in cui tutti dobbiamo impegnarci, istituzione comunale, regionale e nazionale, ed evitare che possa avvenire questo perché non serve a nessuno. Circa 900 Aste Giudiziari da qui al 31 dicembre. Questo è l'allarmante dato che solo in provincia di Ragusa ha fatto scattare la scorsa settimana lo sciopole della fame da parte dell'imprenditore agricolo Angelo Giacchi che ha manifestato davanti alla prefettura di Ragusa. Grazie all'intervento del prefetto Vardè è stato possibile avviare un dialogo con le banche regionali e con il governo regionale per fermare o almeno provare a farlo le catombe dell'economia ragusana. Entro il mese di dicembre il tribunale di Ragusa avrà 839 Aste bandite, quindi questo è un problema che a tappeto prende tutti, sta prendendo la famiglia, sta prendendo i lavoratori, sta prendendo gli imprenditori che stanno dovendo chiudere le aziende e licenziare centinaia e centinaia di persone. Dove andremo a finire? Questa è la domanda che mi sento di rivolgere a tutta la classe dirigente siciliana. 65.000 posti di lavoro nei primi sei mesi, persi nei primi sei mesi del 2013 in Sicilia. Ecco, queste significheranno altre aste giudiziarie che arriveranno fra un paio d'anni. Presenta al Consiglio Comunale Aperto ieri sera anche una delegazione del Movimento per i diritti agricoli. Tonino Messinese, portavoggio del Movimento e protagonista dello sciopero della fame, messo in atto in Piazza Calvare a Vittoria con la serra impiantata per diversità di diversi mesi. Ha chiesto ai rappresentanti politici presenti atti concreti e non solo parole, facendo pressione anche sull'Unione Europea e sui governi nazionale e regionale. Le parole di grado messinese non servono più. Adesso ci vogliono i fatti. Noi chiediamo più attenzione ai problemi reali dell'agricoltura, che ormai lo Stato italiano non dipende sia a livello industriale che a livello agricolo. Almeno per poter vivere, quale futuro avranno i nostri figli o chi loro dicono di investire in agricoltura. Che cosa dobbiamo investire quando stiamo chiudendo? Chiudere l'azienda significa chiudere una storia della nostra fascia trasformata che ha inventato le serre, che ormai hanno copiato in Olanda in Israele, dove investono gli stati e invece loro stanno dismettendo tutto, sia industria che agricoltura. A breve inizieranno i lavori per surcare Diana. La restauratrice Viviana Meli è pronta a dare il via ai lavori di restauro. In anteprima conosciamo le intenzioni della giovane restauratrice e le tecniche con le quali ha pensato di intervenire. La dia della caccia, da sempre simbolo della cittadina casmenea, è stata deturpata qualche settimana fa. Le hanno applicato del rosetto rosso, dello smalto alle unghie dei piedi e delle liner agli occhi. In un primo momento si è pensato a dei cosmetici, ma dopo la perizia che la volontaria ha eseguito sulla statua, si è stabilito che molto probabilmente si tratta di pennarelli a spirito. Del giorno 31 ottobre mi sono regata presso la piazza Fonte Diana per un sopralluogo per analizzare da vicino esattamente la Diana. Ecco, all'inizio sembrava del rossetto esaminato da lontano, ma una volta che ho effettuato un sopralluogo molto da vicino mi sono accorta che in realtà si tratta di colori didattici, nonché colori a spirito, pennarelli intelebili. Quindi il colore a spirito non avendo materia, in questo caso non si può intervenire tramite una pulitura meccanica con solo utilizzo di bisturi, ma in questo caso tramite pulitura chimica, quindi con l'utilizzo di solventi. In questo caso intervengo con impacchi tramite carta giapponese per vedere quale sarà il solvente più idoneo per eliminare lo strato di colore. Una volta individuato il prodotto che potrà trattare il colore, i tempi di restauro saranno abbastanza brevi. In base alle percentuali che analizzerò una volta che esamino il solvente adatto che rimuove lo strato di colore, penso che riusciamo tramite una serie di uno più due tre impacchi a eliminare lo strato di colore. Piove sul bagnato per i cittadini ragusani, dopo l'Imo aumenta anche la Tares. È stato approvato ieri sera dal Consiglio Comunale il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, ovvero la Tares. Il costo del servizio, ben 13,8 milioni di euro, ricadrà interamente sui cittadini ragusani. La nuova amministrazione a 5 Stelle durante la seduta di ieri è stata chiara. Per coprire l'intero costo del servizio o si aumentava la Tares oppure ulteriormente l'Imo. Anche questa volta, così come era accaduto per l'Imo, i consiglieri Iaconeia L'Acqua di Partecipiamo al Movimento Città si sono astenuti. L'opposizione ha presentato una sessantina di emendamenti, tutti regolarmente bocciati e ritirati, per mancanza di copertura. Le astensioni e no arrivati dagli scranni della maggioranza hanno di fatto bocciato questi emendamenti che puntavano a fare alcune eccezioni per tutelare le categorie sociali della popolazione, in particolar modo i meno abbienti e anche i commercianti, artigiani e imprenditori. Ad essere approvati sono stati due emendamenti presentati dal consigliere Udicisone Migliore e uno del consigliere Morando. Tra le misure previste dal nuovo regolamento Tares c'è l'esenzione totale per tre anni per chi acquista e ristruttura abitazioni in centro storico. Tra gli emendamenti bocciati, invece, quelli che prevedevano di esonerare dalla Tares tutte le attività ricadenti nella zona artigianale e industriale, le strutture culturali non comunali come musei, biblioteche e teatri, gestiti da privati o enti, tutti quei locali a uso abitativo e non, che siano chiusi e inutilizzati seppur agibili, locali adibiti a sede principale di Ollus, associazioni di volontariato, culturali e politiche di ambito locale. Il provvedimento è passato a maggioranza, nonostante due estensioni che la dicono lunga sul modus operandi dell'amministrazione, che va avanti senza concordare e concertare al proprio interno, scelte importanti per la città. Ragusa e Ibla dice addio, speriamo arrivederci, a 500.000 euro. Sono stati decurtati i soldi destinati alla legge speciale su Ibla. Da 5 milioni di euro si passa a 4 milioni e mezzo. Ieri pomeriggio l'Assemblea regionale siciliana, nelle votazioni delle variazioni di bilancio, prendendo atto dell'accordo manifestato dal sindaco di Ragusa Federico Piccitto, ha provveduto a decurtare l'importo previsto a inizio d'anno in finanziaria, trasferendo 500.000 dei 5 milioni di euro che si era riusciti a ottenere a favore del Fondo per le province per garantire i servizi per gli studenti disabili. Per carità si tratta di una causa nobilissima, ma ciò che lascia perplessi è il fatto di aver penalizzato Ibla a favore di tutti gli altri comuni della provincia eblea. Una legge che da più di 30 anni tutelava il quartiere barocco del capoluogo, adesso si è vista scippata. E a dire la verità, la complicità tra il Movimento 5 Stelle e il Presidente della Regione Crocetta, ha consentito di perpetrare questo scippo senza neanche tanto clamore da parte dei deputati blei di maggioranza e soprattutto da parte dell'ex sindaco di Pasquale che prova ad addossare le responsabilità ai grillini. Alla fine la complicità tra il primo cittadino Piccitto e il capogruppo dei 5 Stelle a Lars Cancelleri, il Presidente Crocetta e la maggioranza che lo sostiene, ha sancito la decurtazione di questi fondi. Una scelta politica che già nei giorni scorsi, quando era stata appaventata, aveva sollevato parecchie polemiche e di certo continuerà ancora a far discutere. Conferenza inaugurale in Prefettura per l'attivazione dei sistemi integrati di videosorveglianza. Questa mattina sono stati presentati ufficialmente i piani di sicurezza che riguarderanno i comuni di Comiso, Pozzallo, Scicli e Vittoria. I sistemi di videosorveglianza strategica sono finalizzati al controllo delle aree urbane degradate, alla sicurezza delle vie di comunicazione e alla tutela del patrimonio ambientale e sono il risultato di progetti a suo tempo presentati al Ministero dell'Interno e ammessi ai finanziamenti del PON Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno. I lavori sono stati già completati e sottoposti a collaudo, con esito positivo e proprio da ultimo lo scorso mese di ottobre, al fine di rendere pienamente funzionale e operativa la fruizione del sistema. Una società incaricata dell'esecuzione delle opere ha ultimato il previsto programma di formazione rivolto al personale delle forze di polizia destinato ad operare nelle sale controllo. La conferenza, anche in considerazione delle aspettative della popolazione dei quattro comuni interessati, si è posta all'obiettivo di illustrare la funzionalità nonché le potenzialità dei sistemi di videosorveglianza realizzati in vista della loro imminente attivazione. È un'iniziativa che è stata realizzata nell'ambito del PON Sicurezza e devo dire che è la prima iniziativa finanziata dal PON in Sicilia che raggiunge l'operatività. Oggi sono già state messe in opera questi sistemi di videosorveglianza in questi comuni. Sicuramente è un grandissimo servizio che da qualche tempo attendevamo e che ora siamo pronti, io spero, siano concluse tutte le attività e possa partire perché le nostre città richiedono sicurezza, richiedono legalità, all'ordine del giorno ci sono rapine, ci sono atti di violenza e dobbiamo combatterle tutti insieme.